L'Italia avrebbe tutto da imparare dalla Polonia e dalla Lituania quando si tratta di integrazione sociale degli anziani. I centri destinati ai non più giovanissimi sono, in questi paesi, organizzati alla perfezione e ricchi di iniziative culturali e ludiche. Proprio in questi giorni sono in visita in Abruzzo due delegazioni, una polacca e una lituana, nell'ambito del progetto Erasmus denominato Golden Age of Senior, promosso dall'Associazione Abruzzo Ontario di Atri. In mattinata le delegazioni sono state ufficialmente ricevute a Teramo dalle istituzioni cittadine e dal console onorario della Lituania in Italia, il direttore d'orchestra teramano Maurizio Cocciolito. I bravissimi responsabili dell'Associazione Abruzzo Ontario di Atri hanno partecipato a un progetto europeo e quindi che consiste nel invitare e collaborare con persone non più giovanissime in campo internazionale per la qualità della vita, per migliorare la loro qualità della vita. Quindi circa 35 cittadini della Lituania e anche della Polonia sono stati qui ospiti dell'Associazione Abruzzo Ontario, hanno visitato diversi luoghi e oggi appunto c'è l'incontro istituzionale qui a Teramo. Felicissimi componenti delle due delegazioni, polacca e lituana, dell'accoglienza ricevuta a Teramo. I senior sono stati accompagnati dalla protezione civile e da una rappresentanza degli alpini in visita ai monumenti più belli della città e hanno ricevuto in dono, come ricordo della giornata, una mattonella di castelli. Lei è un teramano doc, come è diventato console della Lituania? È un fatto di rapporti, rapporti anche internazionali. La mia professione di musicista, di responsabile, di istituzioni importanti ha fatto in modo di conoscere anche a livello diplomatico delle persone che mi hanno chiesto se volevo assumere questo incarico. Naturalmente la cosa mi ha fatto molto piacere, mi rende molto orgoglioso e naturalmente mi fa molto contento.